Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Gorizia 7, il nostro approfondimento settimanale sulla realtà del Lisontino. Vi presento subito il nostro ospite di oggi, l'assessore comunale di Monfalcone, Paolo Venni. Buongiorno e benvenuto alla nostra trasmissione, assessore alle società partecipate, alla raccolta differenziata, all'ambiente, al patrimonio, insomma varie deleghe importanti per lei. Tutte pesanti. Una anche abbastanza recente, mi pare di capire. Sì, anche il SUAP, lo sportello unico delle attività produttive di Monfalcone. Benissimo, quindi anche è chiaro che è sicuramente una delega molto pesante, no? Anche questa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, iniziamo a parlare però di un argomento sicuramente molto interessante per la città di Monfalcone, un po' per tutta la regione, che è lo sviluppo del turismo. Che cosa state facendo? Che poi porta anche lavoro, no? Quindi si interseca poi con le altre competenze, con le altre deleghe. Ecco, turismo, che cosa si sta facendo a Monfalcone per incentivarlo e quindi anche per così vivacizzare la città, soprattutto nella stagione estiva e quindi valorizzando quella che è Marina Iulia, il litorale. Sì, perché molti dimenticano che Monfalcone comunque è una città di mare. Certo. Abbiamo il nostro litorale che è appunto Marina Iulia e quindi come amministrazione abbiamo puntato molto sull'attività turistica e sulle attività che si potranno così esercitare in spiaggia. A questo proposito abbiamo realizzato, è in via di definizione, quindi a breve ci sarà l'inaugurazione della nuova area sportiva. Già l'anno scorso avevamo creato il famoso campo da beach volley, totalmente gratuito per la cittadinanza, per i ragazzi che si recono in spiaggia e vogliono appunto praticare questo sport qua. A questo abbiamo aggiunto il campo da beach soccer, quindi chi volesse anche praticare il calcetto da spiaggia ha la possibilità e pensando anche un po' trasversalmente a tutte le fasce di età abbiamo realizzato, stiamo realizzando anche una pista da bocce. Ecco, quindi per chi è un po' più in là con gli anni, magari non si sente di cimentarsi in sport più giovanili, diciamo così. Esatto, ma oltre a questo ovviamente l'area sarà dotata di nuove docce, di servizi igienici, perché effettivamente Marina Giulia è molto frequentata, nel weekend si stimano circa fino a 12.000 presenze, quindi è un impatto di utenti che ha bisogno di essere gestito anche sotto questo aspetto, lasciare solo all'iniziativa degli stabilimenti balneari con i loro bagni, in effetti andavano anche un po' in fatica, per cui noi abbiamo deciso di creare questi bagni, saranno anche sorvegliati, gestiti da una società che ne curerà la pulizia, perché mettere un bagno e poi non sorvegliarlo è forse anche peggiorativo. Non solo questo, stiamo definendo, ormai siamo all'ultima battuta dell'acquisto dell'area del parcheggio di Marina Giulia, per dare agli utenti un nuovo sfogo di parcheggio e quindi diciamo che siamo pronti per accogliervi, per accogliere tutta la cittadinanza, Monfalcone, non solo Monfalcone, ma anche il mandamento. Ma non solo di Monfalcone, perché so che sono tanti anche dal mandamento, dalla provincia di Galizia. Molti da Trieste, è vero? Qualcuno arriva, anche perché tutti questi lavori di sistemazione hanno restituito un po' uno spazio che era un po' lasciato nell'abbandono per molti anni. Sì, Marina Giulia è una spiaggia storica, si è sviluppata diciamo nel suo punto di massimo fulgore all'inizio degli anni 70, addirittura sono stati girati dei film, la ragazza di Trieste, il colonel Anna Muti, ha una sua storia. Abbiamo voluto ridare quello che è il giusto lustro, la giusta importanza alla nostra spiaggia. Non solo quindi, anche come nuovo rendering, quindi come attività presenti, ma anche dando un qualcosa in più. Quest'estate, come anche gli altri anni, si terrà sempre il Dia Marina Giulia, il Marina Giulia Summer Festival 2018, giunto alla terza edizione con spettacoli, musica, artisti del territorio. Abbiamo voluto così anche dare una vetrina ai giovani talenti del territorio che avranno un palco a disposizione. Abbiamo un programma molto vasto, per cui ecco, spiaggia, relax, mare e alla sera anche la possibilità di divertirsi in compagnia. Ecco, in tutta questa operazione di rivitalizzazione della città, rientra poi anche quella che è la festa per Sant'Antonio, quindi di questi giorni, proprio la festa del vino, che è anche un appuntamento molto importante per voi. Esatto, questo è un appuntamento che ormai è diventato una tradizione consolidata. Festeggiamo il 61esimo anno dell'edizione della festa del vino. Ce lo riconoscono in tanti, infatti abbiamo frequenze molto, molto sostenute di persone, di cittadini che non sono solo locali, ma vengono anche appunto da Trieste, dalla furlaneria. È un'occasione per riavvicinarsi anche ai prodotti tipici del territorio. E poi il nostro buon assessore Fasan, che lui cura, io lo chiamo mastro delle cerimonie, ma in effetti è quello che si occupa un po' di tutti gli eventi. Ovviamente è stato bravo nel reperire quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità del territorio, quindi è molto bello. Oltretutto quest'anno finalmente abbiamo anche il comune a disposizione, non c'è più la barriera dei lavori, quindi si può vedere il comune nella sua splendida forma e tutti i chioschi e le bancarelle intorno. È anche un bel percorso da fare. Benissimo, allora l'invito è di recarsi a Monfalcone anche proprio per seguire tutte queste iniziative. Tra le varie iniziative c'è anche il Museo della Cantieristica, non dimentichiamolo, un piccolo gioiello della Città dei Cantieri. C'è una collaborazione proprio con l'azienda, con Fincantieri, proprio legata a questo museo. Assolutamente, una collaborazione molto stretta con la Fondazione Fincantieri. Il MUCA, il Museo della Cantieristica, ha detto bene, è un fiore all'occhiello. Se una persona, un visitatore, un turista, vuole farsi un'idea di quella che è l'essenza del nostro territorio, è indispensabile che faccia un salto al Museo della Cantieristica. Lì c'è un pezzo di storia, un pezzo di storia che ha visto coinvolti molti cittadini, molte persone che hanno tratto il loro pane da quello che offre questa grande azienda che ora si è trasformata in un'azienda addirittura di caratura internazionale. E con la Fondazione, con Fincantieri, abbiamo stretto anche una collaborazione, nel senso che saranno delle visite, o perlomeno ci sarà la possibilità di avere delle visite, come si dice, proattive, nel senso che oltre alla visita del Comune sarà possibile visitare anche gli impianti produttivi. Quindi vedere dal vivo come si costruisce una nave, da dove parte, dal primo blocco, dalla prima lamiera tagliata. Penso che questo sia molto interessante per tutti. Abbiamo avuto una grossa risposta da parte delle scuole, perché effettivamente è molto bello vedere questi giganti finiti, pitturati di bianco, che sono nella loro forma finale. Ma è altrettanto interessante vedere come la tecnica, come il lavoro e lo sforzo di tante persone rende possibile quello che sembra quasi impossibile. Pensi che una nave produce circa 10 milioni di ore lavorative, quindi lo sforzo sicuramente è enorme. E museo e visita può dare un quadro completo e dà anche splendore, giustamente, dà luce anche alla nostra cittadina, la cittadina dei cantieri. È sempre stata conosciuta proprio come città dei cantieri. Allora, un altro argomento di cui si occupa come assessore alle società partecipate, ma anche alla raccolta differenziata. Mi chiamano l'assessore delle scovazze, perché quello è il termine utilizzato nel misiaco, simpaticamente, a me fa piacere. È chiaro. Allora, la raccolta differenziata che a Monfalcone comunque funziona bene, ci sono stati in passato diversi problemi, si sta tentando di risolverli, in che modo? Insomma, si è fatto molto in questo periodo. È un work in progress. un work in progress. Abbiamo preso nelle mani una cittadina dove effettivamente la pulizia, la raccolta differenziata era un po' sotto tono, sicuramente sotto tono. Noi con la collaborazione di San Ambiente, con la ristrutturazione di un, possiamo dire, una rivisitazione di un contratto in essere, abbiamo fatto mille modifiche a partire dalle pulizie, quindi dal cronoprogramma riferito a come vengono e quando vengono spazzate le strade, fino alle tecnologie da impiegare. Entrata in funzione ultimamente una spazzatrice elettrica che fa tutto il centro, ma non solo spazza e spira, ma anche lava e disinfetta. Questo ha dato degli effetti sicuramente molto evidenti per i cittadini che ce lo riconoscono. Quindi collaborazione stretta con i San Ambiente, rivisitazione. Siamo andati a colpire un po' quelle che sono le criticità e che in alcuni casi permangono, ma stiamo piano piano attenuando. La famosa piaga degli abbandoni, quella è legata proprio anche un po' al turnover della cittadina che comunque è soprattutto, ahimè, deputata forse a chi non riesce a entrare nel meccanismo della differenziata perché sta per brevi periodi e quindi molto spesso solo le persone incivili, poi ci sono tanti invece che cercano e si sforzano di farle in maniera opportuna, la cosa più veloce che fanno è quella di abbandonare il sacchietto. Ma non è l'abbandono del sacchietto se stesso, è tutto quello che poi c'è a monte. E certo, immagino. E quindi anche questo fenomeno lo state combattendo. Si è notevolmente ridotto, ha raggiunto adesso un livello accettabile, ma noi vogliamo veramente arrivare allo zero, cioè non vogliamo avere questo fenomeno. Ecco, anche come assessore quindi all'ambiente, avete celebrato nella giornata del 5 giugno, come un po' in tutto il mondo, la giornata appunto dedicata all'ambiente, quindi si è parlato molto di inquinamento. Che cosa avete fatto in particolare? Quali sono state le iniziative? Beh, quella al 5 giugno era una giornata molto importante perché giustamente come ha detto lei si è celebrata la giornata mondiale dell'ambiente. Noi abbiamo voluto fare un percorso di sensibilizzazione anche delle scuole. Abbiamo fatto la merenda ecologica per le scuole, quindi mostrando dei video, facendo vedere con il gioco dove lo metto per i bambini, la plastica va di qua in questo cassonetto, domanda quiz su che colore è il cassonetto della plastica, che colore è il cassonetto dell'umido e così. Per insegnare attraverso il gioco. Esatto, perché noi dobbiamo puntare sulle giovani generazioni, perché ripeto è una questione fondamentale fare una buona differenziata e cercare di adottare quello che viene definito la regola delle 4 R, ridurre, riciclare, riutilizzare, riuso. Perché in effetti ne va anche della salvezza del mondo. Infatti il tema era salvare il mondo. È un gioco da ragazzi con un punto interrogativo proprio per dare un input a questi ragazzi e questi bambini di ragionare su questo fatto. Perché faccio la raccolta differenziata? Qual è la motivazione principale? Perché io devo dividere plastica, carta, umido e quant'altro? Ecco, questo è molto importante, soprattutto puntare appunto sulle giovani generazioni, perché poi magari loro stessi portano nelle loro famiglie queste informazioni, queste buone abitudini e quindi si crea un circolo virtuoso. Assolutamente sì, perché se noi andiamo a leggere i dati di Lega Ambiente e di altre associazioni che operano per la tutela ambientale nel mondo, ci sono dei dati che ci fanno veramente rizzare i capelli. E il problema più grande è il problema della plastica. In Italia vengono prodotti tutti gli anni, è stimato tra i 5 e i 9 miliardi di bottigliette. Tra i 5 e i 9 miliardi di bottigliette. In tutto il mondo si producono 500 miliardi di bottigliette che se non vengono dovutamente raccolte, riciclate, riutilizzate, vanno a finire nei mari, inevitabilmente. Pensi che nei mari ci sono, le chiamano trash, dall'inglese spazzatura vortex, vortici di spazzatura. Sono delle isole grandi con l'estensione della spia. Di plastica, di rifiuti. Come la Spagna, come la Spagna. Mamma mia, quindi le... Entrano nella catena alimentare, poi alla fine la plastica, se la disperdiamo nell'ambiente, poi ce la mangiamo. Quindi se non la raccogliamo è come se la natura dice, non la raccoglie adesso te la faccio mangiare. Questa è la verità, questa è la verità. E quindi oltre a questa diciamo merenda ecologica, ambientale, di sensibilizzazione per i ragazzi, per i bambini, poi delle scuole, avete in mente anche qualche altra iniziativa proprio di sensibilizzazione su questi problemi a Monfalcone? Sì, perché il 5 alla sera invece dovevamo rivolgersi, diciamo, agli adulti con l'aperitivo ecologico. Purtroppo il tempo non ci ha assistito e abbiamo dovuto rinviarlo. L'aperitivo ecologico si terrà il 22 giugno, venerdì 22 giugno, a partire dalle 17.30 circa fino alle 22, dove attraverso un po' di musica, ma musica non solo musica fine a se stessa, ma anche qualche intervento, qualche dato di legambiente dell'associazione Eugenio Rosman che ci dà una mano e collabora con noi, si farà riflettere la cittadinanza e chi verrà a trovarci prendendo un aperitivo, un aperitivo ecologico perché tutto sarà fatto in maniera tale che tutto può essere compostabile o riutilizzabile. Se avessimo scelto la classica conferenza tra gli addetti ai lavori, avremmo trovato persone concordi, persone informate. Noi invece vogliamo trasmettere quello che può essere, e può essere considerato secondo me erroneamente, un argomento da accademici e invece un argomento che deve diventare un must, deve diventare qualcosa di moda perché, ripeto, ne va sia dalla nostra salute adesso che dalla salute dei nostri figli un domani. È vero, è verissimo questo, quindi importantissima la sensibilizzazione di più persone possibili su questi argomenti. Vogliamo concludere, siamo in conclusione proprio della nostra trasmissione parlando un pochino appunto di questo sportello che riguarda il lavoro, l'occupazione, del quale ha preso da poco le deleghe come assessore. Sì, diciamo che il SUAP come sportello unico delle attività produttive, per Mon Falcone, ma diciamo ovviamente sono tempi abbastanza duri per cui bisogna in qualche maniera cercare di rinventare e di capire come aiutare i commercianti ad avere una linea diretta con il comune, con le istituzioni, perché molto spesso la difficoltà sia degli artigiani, dei commercianti e quant'altro è quella di sentirsi un po' soli. Le istituzioni vengono ricordate solamente nel momento in cui si deve pagare l'Atari, si deve pagare l'Imu. Poi in realtà ci sono mille possibilità che l'amministrazione può offrire in termini di sovvenzioni, in termini di finanziamenti come il mio predecessore, l'assessore Fasanna ha curato con il sostegno al commercio. Allora bisogna veicolare queste informazioni, bisogna far capire ai commercianti che non sono lasciati soli e come si fa questo? Con una comunicazione diretta con la semplificazione anche della burocrazia legata al semplice fatto di richiedere l'autorizzazione per una tenda, per l'occupazione di un solo pubblico. Questo può essere già un grande aiuto perché è un'attività. Assolutamente, perché se già a livello nazionale e speriamo che con la nuova svolta di questo governo ci sia veramente un indirizzo alla semplificazione, già a livello nazionale un commerciante, un artigiano che si trova a compilare solamente l'F24 per pagare gli oneri dei dipendenti o quant'altro, deve spendere tot di ore che è calcolato a livello nazionale tra i più alti d'Europa, deve pagare un sacco di soldi per il commercialista e per le altre professioniste. Allora noi come amministrazione vogliamo fare la nostra parte di dire almeno noi cercare di semplificare e ridurre dove possibile, sempre nei termini di legge, questo ulteriore grave. Benissimo, io ringrazio molto l'assessore Paolo Venni, io ricordo assessore alle partecipate, alla raccolta differenziata, all'ambiente, al patrimonio e appunto anche a questo sportello delle attività produttive di Monfalcone per essere stato con noi quest'oggi a Gorizia 7. Grazie e torni presto a trovarci. Grazie a tutti. Grazie, grazie molte e grazie anche a voi che ci avete seguito e l'appuntamento con Gorizia 7 torna naturalmente la prossima settimana sempre alla stessa ora. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.